Io molto probabilmente, personalmente, per una questione mia personale, il Matteotti quest'anno non lo farò. Questa è la notizia, ma non perché è una cosa mia persona. La farai come squadra o non lo farai? No, 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 proprio il Matteotti. Ma non ci sarà, perdonami, non ci sarà l'evento o l'evento ci sarà e non ci sarà? Allora, io ho parlato con il Presidente, perché il Presidente è Sebastiani e io ho detto che non me la sentivo per una questione mia personale e lui ha ribadito a me, mi ha detto se non lo fai tu non si fa. Ma personale extrasportiva o personale sportiva? Extrasportiva, extrasportiva. E quindi lui ha detto se non lo fai tu non si fa e se c'è invece qualcuno che lo vuole fare, perché comunque quattro anni e diciamo che c'è tutto per far uscire un buon Matteotti e si facesse avanti. Ma non ci sono, perdonami, l'impertinenza e l'insistenza? È una decisione come le dimissioni, irrevocabili? No, no, ieri sera siamo stati a cena. È una decisione che te... È una cosa che non mi sento io perché purtroppo dopo quattro anni ho una situazione personale che non mi sento ad affrontare uno stress. È una vita che io non so dire no a nessuno, mi è maturata questa cosa per una cosa mia personale, ho detto, dico no. L'ho detto a lui, magari poteva dire vabbè si fa lo stesso e lui mi ha ribadito questa è la situazione. A oggi, ma è una decisione diciamo delle ultime ore. A volte ci vuole il coraggio di dire di no, non è che c'è qualcosa che non va, io sono soddisfatto di quello che si è fatto in questi quattro anni. È una mia presa di posizione perché purtroppo non me la sento. Matteotti è di tutta l'Abruzzo, si chiamava la classica pescarese e abbiamo messo nome la classica abruzzese. E se non ci credono più gli imprenditori è difficile andare avanti così. Poi ripeto, non è per quello, perché l'abbiamo fatto quattro anni, poi fare anche cinque. È una mia scelta personale perché devo imparare piano piano a dire di no. Perché da fuori è tutto bello, ma oggi il ciclismo è diventato veramente impegnativo. Organizzare un giro impegnativo, organizzare una trasferta impegnativa, l'abbiamo fatto col Covid. Quindi la volontà ho dato oltre, io do il massimo sempre. Quest'anno non me la sento.